L'ultimo match è stata una battaglia guerrita all'ultimo sangue che è finita con la mia sconfitta, sono arrivato a seconda, però è stata una bella battaglia, posso dire. Sono curioso di sapere come sarà la prossima battaglia. Sto andando in mano? Sto andando in mano? Ok, mi hanno fatto perdere il drop Però va almeno lo stesso Dove sono? Ah, non ho perso il drop Sono a post Più che a post sono Sono sicuro che questo vuole combattere Non trovi mai per il domino di questa base E qua Prendiamoci 200 di vita velocemente Qualche armo Qu'è post? A un controllo così Qu'è posto? perché non mi aspettavo cioè non l'ho ucciso io non ho capito perché non l'ho ucciso io e dove è il computer qua? ci dovrebbe essere un computer qua e qua dentro eh ci dovrebbe essere un computer no? questo è il computer comunque sono a piedi devo trovare una macchina il prima possibile che qua di solito qua c'è sempre una macchina ferma ora che mi servono un cello quella è una macchina? sembra una macchina è una macchina? non lo capisco no ok mi sa che devo andare a prendere il SUV che non mi piace il SUV dei poveri ok quello là ha due poteri quindi è molto forte se trovo un modo strategico per attaccarlo ok 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 Un pazzito. 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 Si deve trovare qua quel barrage Andiamo a comandare sta montagna Mi metto qua sopra e sprolla con il mio raggio Sì Boh Non pensavo di ricevere tutto il suo benedì gratis Ed invece tutto gratis Tutto gratis Tutto gratis No, non devo avere paura, solo perché ho qualche potere, io ho più potere di lui. Si trova dentro sta casa, ah c'è gente a combattere la, no, non devo avere paura, non devo avere paura. Oh, mi stai inseguendo, basta. Ma che? Mi ha regalato una macchina. Ok. 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 Non posso eviare la sua stessa. Ok. 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 Cos'è da fuori? Il limite è nitro Qualcuno verrà qua, no? Qua là sotto Una battaglia ardua Qua là sotto 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 Qua là sotto